buonasera a tutti stasera per cena mangiamo questo tre fettine di cheddar poi mortadella due fette per ciascuno è una busta di ustel ustel sono fatti alla griglia senza olio con due fette di pane e abbiamo mangiato pure stasera Pasquale ha le ripese con la maionese non può mancare su questo piatto. Amore cosa si prova a mangiare la maionese su queste cose? A mangiare? A mangiare? Buono, buono, ora dobbiamo soggiare. Io vi auguro buon appetito a tutti e buona serata ciao ciao